Matteo Salvini, reduci da questa vittoria con la Lega in queste elezioni europee 2019, ha tenuto una conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio. In questo incontro ha baciato il crocifisso e avrebbe detto a Riace e Lampedusa la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una immigrazione regolare qualificata, positiva è volontà degli italiani. Non solo un capriccio di Salvini avrebbe così detto, ripeto che ha baciato il crocifisso e ha ringraziato in particolare i religiosi, le persone insomma di chiesa, di religione cristiano-cattolica, che molto probabilmente hanno affidato proprio il loro voto alla Lega di Matteo Salvini. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque è ora del cambiamento in Europa e in Italia per quanto riguarda la vittoria straordinaria netta della Lega come partito politico. Ancora a voi tutti una buona giornata e una buona lunedì dal vostro narratore italiano di Youtube Italia.